Ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video Oggi di nuovo Tekken 7 raga E andremo a provare la modalità online con alcune classificate Quindi entriamo nella modalità online Ho visto che ad alcuni di voi è piaciuto veramente un casino sto gioco Andiamo in elenco partite Ok E' piaciuto veramente tanto questo gioco Ma alcuni raga non zan hanno vuttuto proprio Cioè ci sta raga Io poi alla fine spero che questo gioco vi piaccia un po' a tutti quanti Allora io vorrei provare di nuovo Nina Perché mi sono modificato alcuni tratti del suo Come si chiama Della sua... non mi viene il termine ragazzi Non mi viene il termine va bene comunque Come vedete qua ci da alcune partite Dove noi possiamo entrare a far parte Cioè nel senso ci sono dei giocatori che stanno attendendo E noi li possiamo sfidare I server ragazzi fanno alquanto schifo Io ci metto di solito 10 minuti per una partita Perché ogni volta dice la connessione con il tuo os è interrotto Addirittura non ho nessuna possibilità Mamma raga I server su PS4 fanno proprio schifo Che poi tra l'altro non è neanche la mia connessione Perché io tengo tutto in ordine Tengo fibra Quindi non è che proprio tengo tutto questo problema Nato aperto E figuriamo se ci teniamo il nato chiuso raga Ok ragazzi dopo un po' di tempo ci siamo riusciti ad aggiudicare una partita E siamo contro Chi è esso qua? Ansosiette Sarà francese Ah no tedesco c'è scritto sotto vedete Deutschland E io Italia dall'altra Perfetto perfetto Sincronizzazione in corso Raga online è qualcosa di difficilissimo Ci sono tutti i giocatori praticamente Ah vedete in contropromozione Cioè mo ci può far saltare di grado Quindi possiamo andare in grado in avanti Perfetto Round 1 Fight Guarda adesso qua raga L'alline è veramente difficile E vattene a muovi ammazzare Ok Parca vacca Come la vedi Ehi 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 Boom Uuuu Massacrato Valissimo Vai raga Fatemi sapere nei commenti Se vi piace Annaccia quel diavolo Porco Ok Bastardo Bastardo Concentrazione No M'ha preso M'ha preso M'ha preso Dai Alzati 3 ore per alzarsi Dai Schiaffone Bastardo Bastardo Ok Bastardo E come la vedi Con la mia combo No 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 Bastardo No No Mi ha preso M'ha preso M'ha preso M'ha preso M'ha preso Oh 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 Raga è pesantissimo Fight Oh Mi scordo sempre Che è questo No 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 Bacca 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 Bastardo Bastardo Come la vedi No Eh dai Ma come fa Come faccio a schivarlo Non lo so Non so come faccio a schivarlo Bastardo No No l'ha schivato E la prima ce la portiamo a casa Puff Mamma mia raga È difficilissimo Voi non potete capire Prossima partita Perfetto ragazzi Sono 28 minuti 08 Di registrazione Io mi sono stancato Non ce la faccio più Se questa partita Non ce la trova Io vi faccio vedere La modalità Personalizza Perché Non si può Non si può Sono oltre 20 minuti Che sto aspettando Per una partita Di 2 minuti Cioè È assurdo Non puoi fare una cosa del genere Perché La gente Così si scoccia E non ci gioca più Cioè Fa sempre Ricerca Sessione O mi dice Impossibile trovare La sessione A cui partecipare Oppure Mi trova Dei giocatori E mi dice Che la connessione È stata interrotta È assurdo Vedete È impossibile Trovare una sessione A cui partecipare Basta raga Io vi faccio vedere La modalità Personalizza Che è sempre online Perché cioè Raga Non se può Non se può Non se può Allora Da precisare Che all'inizio Del gioco Vi dà sempre Oltre Mi sembra Centomila Di Cosi Di oro E come vedete Voi vi potete Modificare Quel cavolo Che volete voi Ad esempio Io mi voglio Modificare Questo Eddi Questo qua Scegliamoci Uno slot Qualsiasi E come vedete Se si vuole caricare Ok Potete Scegliervi Copricapi Tutto quello Che vi pare Però io Copricapi Non lo voglio Voglio un'acconciatura Un po' Particolare No No Però diciamo Che Eddie È bello Proprio perché Tiene i rasta Secondo me Quindi O gli prendiamo Un copricapo Fichissimo Oppure Questi Bello Questo raga Però gli copre Tutta la faccia A me non piace Oh Te vuoi sta fermo Mi fa venire L'ansia Vabbè Vediamo Vediamo un attimo Ah gli occhiali Voglio questi occhiali qua Ok Vedete io C'ho 5 milioni E 641 mila Di denaro C'è proprio Non è un'infinità Uuuuh C'è pure la pittura Al viso Fermi tutti Voglio questa Che figata Il teschio Ok Insomma Ogni volta Se ne vanno Un sacco di soldi Porca vacca Ok Ma io non voglio Non ho ancora finito Dammi il tempo Poi Uuuuh Spettacolo Questa che roba Eh Non mi piace Bello così Questo No Per l'amor di dio Per l'amor di dio Che mi ho fatto La bella e la bestie No Vediamo che c'è di carino Ma Ci mettiamo questa raga Dai ci sta È il suo classico Proprio Oppure a petto nudo Proprio Però quella Con salita di dio Petto nudo raga Vai Senza maglia Si Petto nudo E come pantaloni Uuuuh Che spettacolo Questi Questo qua No Voglio qualche cosa No raga Questo è il migliore Dai Sì dai Ci prendiamo questo Normale Ah Un'infinità di soldi Porca vacca Niente ragazzi Purtroppo Oggi va così Mi dispiace Sono 47 minuti E 37 Che sto in registrazione Non sono Sono riuscito a fare Solamente una partita C'è Qualcosa di assurdo Ragazzi Non voglio Assolutamente Sapere nulla Quindi Niente La prossima La prossima volta Spero di fare Qualche altra partita in più E noi ci vediamo Al prossimo video